Carissimi amici dello Shortini Film Festival, un in bocca al lupo da Massimo Privitera, spero che la vostra passione vi porti sempre avanti e che Augusta abbia, grazie a questo festival, ancora più visibilità e importanze e diventi una città di cultura e di arte, come è giusto che sia. Tanti in bocca al lupo e avanti così!